La nostra speranza è che in settembre il bando esca finalmente, ma soprattutto la speranza vera è che qualcuno si proponga per acquistare una parte del comparto. Con la pubblicazione del bando per la vendita degli immobili del comparto destinati ai privati, la svolta per l'area di Via Napoleona potrebbe essere vicina. Non è ancora stato reso noto il valore che sarà indicato come base d'asta per l'alienazione, ma dopo anni di attesa e di perizie, 4 in totale, i tempi finalmente sarebbero maturi. La procedura di vendita è gestita da Infrastrutture Lombard, la SPA della Regione, che si è occupata anche della costruzione del nuovo ospedale. L'infrastrutture ci ha autorizzato a dire che verso settembre potremmo pubblicare il bando. Uso del condizionale perché non è un'attività che svolgo in prima persona. Intanto nel monoblocco inizia a delinearsi il progetto di cittadella sanitaria. La medicina legale si sposterà da Via Carso e dal 5 settembre occuperà l'ala ovest del primo piano dell'edificio. In Via Napoleona si svolgeranno gli accertamenti per l'invalidità civile e la commissione patenti speciali. Inoltre ci sarà uno sportello informativo. Si parla di più di 20.000 visite l'anno e di un flusso complessivo di oltre 40.000 persone tra pazienti e accompagnatori. Per agevolare gli utenti disabili che dovranno accedere alla struttura si sta valutando una revisione del piano di viabilità e sosta all'interno del compendio che sarà operativo al termine del cantiere dell'antincendio che, a sua volta, dopo l'estate, si avvierà verso la conclusione. Oltre alla medicina legale si prevede a breve un altro spostamento. Entro la fine dell'anno l'ipotesi è quella di trasferire l'attività consultoriale che attualmente viene svolta in Via Castelnuovo, ex ospedale psichiatrico, trasferire qua questa attività consultoriale mantenendo il consultorio di Via Gramsci in centro città. C'è poi l'interesse da parte di altri enti a trasferirsi in Via Napoleona, tra questi l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, pare, l'INAIL. Di pari passo prosegue il restyling del monoblocco, è arrivato anche l'ok della soprintendenza per procedere dopo l'estate al ripristino della facciata. Infine, l'andamento del poliambulatorio. Nel 2015 sono state erogate 800.000 prestazioni.